Soprattutto il cantato e anche il testo, anche perché l'uomo di cui parla si chiama Joe ed è un musicista, un bluesman, forse anche un jazzista, non si sa e parla di un locale brutto ma veramente coinvolgente insomma un po' come me, io sono brutto ma un po' coinvolgente, dai, cosa ne dite? Passate a perdere le sponzate, comunque sia, questo è un pezzo che è stato usato anche da Tarantino uno dei suoi film come con la nostra madre Grazie a tutti 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 Grazie a tutti